un cordiale saluto a tutti gli amici all'ascolto oggi ci ritroviamo presso il santuario della verna e siamo qui per la seconda parte di questo video oggi ascolteremo la distesa delle due campane minori seguita dal plenum solenne di tutte e quattro le campane con questo video voglio augurare a tutti una buona solennità la beata vergine assunta in cielo e un buon ferragosto a presto a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.